musica musica signori rieccoci qui abbiamo trovato questo robetto qua che cosa c'era dentro c'è un po' di roba c'è allora qualcuno ha una crafting potrei farla il pvp attivo ragazzi ok io perché ho la redstone ci possiamo fare i laser ne approfittiamo ci facciamo le munizioni laser e poi anche anche il circuito si guardate bene ragazzi sulle cestri che sono parecchio si si le ho già svuotate ho preso un po' di blocchetti cibo un botto di cibo ma sai che vi dico io butterei proprio tutte le zuppe sono proprio inutili rimperono solamente l'inventario io le sto utilizzando adesso per spostarne quelle tutte le cose che ho trovato buone allora vi ho fatto la spada dov'era la nostra base di là ma il chip si serve per entrare nel dungeon boh non mi ricordo come funzionava la card la card ce l'avete vero ok ho trovato della speciale ho la light blue card quella è importantissima ok ce l'ho io mi sposterei nella base perché inizia a far notte vero vero corri 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 è vero camiseria aiuto aiuto ho i due chip importantissimi ok ok sono dentro sono dentro facciamo una cosa i chip li lascio qua nella cassa sopra aspetta ma dove sono ah sono nell'altra base loro porca miseria ah ma siamo qua cane ti trovi eh no ma io vedo solo voi due penso stai arrivando ah ok ma scusa dove state no io sono nella sono nella base sopra e vabbè stai là stai là stai là sì sono di là sono di là vabbè iniziamo a scavare ma dai signori sono solo io qui aiutati no ragazzi che faccio adesso ma scusa non riesci a fare una corsa qui no dai è rischiosissimo meglio di no eh sì dovrei scavare verso di voi probabilmente sì chiara è responata però a 5 vuoti vero eh sì 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 torce come si facevano con il carbone vabbè apposto cioè come il classico carbone sì sweet dreams ma cosa cosa si mette a dormire in appus cosa si dorme riusciamo a dormire tutti quanti facciamo passare la notte eh infatti eh vabbè ma io non ho in letto ragazzi abbiamo in letto eh ho trovato la terra può essere utile boh prendila un pochino perché possiamo mettere magari le patate o le carote ce l'abbiamo sotto ragazzi ci serve assolutamente ferro per gli scudi eh ok sì io ce l'ho ma l'ho trovato lo sto tenendo la parte per i laser che altezza siamo qua siamo altissimi eh infatti orca è serio o ci spostiamo provo a incontrare a minuzzo andiamo ragazzi quando diventa giorno dobbiamo prendere assolutamente del legno sì sì ci spostiamo e come facciamo a sapere quando è giorno qualcuno sta fuori ok ho trovato una roba qua che cos'è metal trace allora ci mettiamo la roba che ci può servire da portare sempre dietro che caspita è la metal trace che ci faccio con la metal trace braccia di metallo servono per i lingotti di ferro ah ok 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 allora abbiamo delle patate delle carote d'oro ma ricordate per fare i proiettili la redstone va cotta e fare la flaming redstone ok 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 non male che ci sei tu che ci spieghi ste robe te le spiego perché ci ho aperto il il corso il fila fantastico minuzzo sto rinunciando da te non vedo però il tuo nome perché sto venendo verso sud sarebbe utile trovare un meteorite caduto ma è pazzo cosa? che tu 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 hai lasciato l'entrata aperta qui qua c'è fantastico fantastico scusate scusate meno male che ho controllato aspetta che altezza sto non è che sto scendendo inutilmente qua minuzzo sono arrivato ah eccoti eccoti hai legno? legno si se lo vuoi ma io direi di scendere un po' ok che passato ti romanti eeeh chonks eeeh piglia piglia tutto piglia tutto ma se cambio l'emmetto mi viene a vomitare praticamente non lo posso togliere mi pare che tu vuoi un po' di ferro lo puoi mettere se l'emmetto va bene ah ok ok a posto c'ho quello l'ha dorato minuzzo preparati perché sta per essere giorno e così usciamo si metto a cuocere la roba risaliamo così partiamo subito ma chi ha messo sto calderone qua perché c'è un calderone? perché? oh sento scheletri aiuto aiuto sento scheletri che stanno piando fuoco falli uccidere falli uccidere ma il charcoal come si fa? ah bisogna cuocerlo allora io cuocerei la redstone vai così facciamo già le armi cuoci la redstone ah comunque ho un sacco di bookshelf se vogliamo incantare non so se si può incantare eh no solo non conviene è rischioso incantare ok ok flame abbiamo un po' di roba guarda qui dentro nella shulker è la roba più importante ok minuzzo prendi tutto e ce ne andiamo sopra dagli altri va bene dai io tutto qua e vengo dai i chip i chip dannazione aspetta fa portare i chip andiamo a prendere un pochino di stick e ricordiamoci che poi al prossimo episodio allora io sai cosa farei? se andiamo sempre dritto tra più o meno mille blocchi c'è la foresta sempre andando dritto aspettate aspettate sto arrivando aspettatemi non mi lasciate solo eccolo ecco vedo gabbro questa fornace ci mettiamo a cuocere tieni questo non ce l'ho la fornace oh grazie ripuliamo tutta la zona allora come si fanno i laser laser charge adesso ho appena due di ferro praticamente due di esatto ok vediamo se riesco a farne uno comunque ho lapislazuli i libri cioè ci serve solamente fare il coso per incantare stiamo a posto una matta mi pare che ha detto che non si può incantare l'inchanting table cioè ce n'è solo uno ed è più o meno al centro ma non so quanto combi fatevi gli scudi ragazzi fatevi gli scudi che sono importantissimi in quanto è che ho trovato una cesta e una valle di arboiscelli da tirar giù no ragazzi c'è un vex qui un vex? cosa? c'è uno scheletro oddio aiuto è vero è vero aiuto scappa oddio ma io sono arrivato al bordo della mappa e mi farei sta spada qui ma si dai me la faccio un attimo ho 16 frecce diciamo così le frecce esatto mettete a cuocere il metal trace così facciamo un sacco di frecce laser charge ma io direi che tra poco possiamo andare anche al dungeon che dite? sì assolutamente sì sì ce lo togliamo subito esatto così poi abbiamo tempo per organizzarci luttare trovare mele d'oro cioè mele d'oro quello scritto verde d'oro sì cioè dopo vediamo il circuito dove va messo sì sì tutta questa robetta qua light blue card direi che almeno possiamo finire l'episodio allora no il circuito va messo alla fine cioè quando se si vince attenzione ah se si vince l'episodio 2 attenzione signori signori siamo messi relativamente bene quindi ci vediamo il prossimo episodio esatto ricordiamo che dal prossimo episodio non si respawno più quindi dovremmo stare molto molto attenti adesso che affronteremo il dungeon bella ragazzi ci becchiamo ciao ciao